Ciao, sono Carlo Andreis e sono insegnante dell'Officina del Silat. L'Officina del Silat è un gruppo di appassionati che cercano sia di divulgare questa disciplina, il Penjar Silat, il Senesilat o il Bersilat, qui nella nostra zona, nel nord Italia, a volte veniamo invitati anche all'estero. Oggi siamo qui a Verona, ad Arcole, precisamente, invitati dal maestro Antonio Trapani a tenere un seminario sul specifico del Kuntao e del coltello. L'Officina del Silat esiste dal 2007, quando invitiamo per la prima volta il maestro del Brunei, Mol Morni. Su Facebook ci potete trovare sulla pagina Officina del Silat, su Instagram come Carlo Andreis e su YouTube anche. Ok, adesso potete vedere delle applicazioni che abbiamo fatto durante il seminario, buona visione, grazie ancora. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione